C'è la parata di Giulio Cesar, Juventus è vicinissima al gol del raddoppio con Mirko Vucinic su un'invenzione meravigliosa di Alessandro Del Piero. Non trova il gol del 2-0 Mirko, Marchisio, Pirlo, Pirlo verso Vidal, parte il tiro di Vidal, no, sterza ancora Vidal, pallone dentro per Del Piero, Del Piero, il raddoppio della Juventus con la leggenda Alessandro Del Piero. Il suo primo gol in Serie A allo Juventus Stadium su un passaggio meraviglioso, il tiro del calcio è Alessandro Del Piero, Juventus 2, Inter 0, con il fenomeno, con la leggenda, con l'uomo dei nostri sogni, Alessandro Del Piero, Juventus 2, Inter 0, Del Piero, ancora il capitano, 26esimo minuto della ripresa, Alessandro Del Piero. Non sbaglia mai, a tu per tu col portiere. Un fenomeno il capitano, è un fenomeno, sempre al posto giusto, nel momento giusto. Un fenomeno il capitano, è un fenomeno, sempre al posto giusto, 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 è un fenomeno